Non abbiamo bucato una buona gara, abbiamo falliato molto. Penso che un Travaco, un processo di qualificazione, necessita massimo tempo. Questo equipo Travaco sta da demasiado poco tempo e le giovani non sono liste per bucare questo livello. Quindi questa partita è la conseguenza di un Travaco che non tiene una buona pianificazione.